Ben ritrovati a questo nuovo aggiornamento meteo. Venerdì sarà una giornata un po' piovosa, infatti come vedete al mattino avremo un aumento della nuvolosità su gran parte del centro nord e anche sul versante tirrenico e con il rischio di qualche debole pioggia, ma soltanto al nord-est. Ecco che poi nel corso del pomeriggio avremo un aumento delle piogge su gran parte delle nostre regioni settentrionali e anche sull'alto versante adriatico con il rischio di temporali localizzati e questa è una previsione che ha un indice di affidabilità medio-alto che si attesta tra il 70 ed il 90 da nord a sud. Ecco che poi nel corso della sera queste piogge tenderanno a scivolare verso il nord-est interessando ancora una volta tutte le nostre regioni settentrionali e interessando anche le coste dell'alto versante tirrenico. Il tutto con temperature massime che saranno ancora una volta vicino alla media stagionale con punte di 31 gradi sulla Sicilia. Intanto io vi ricordo come sempre che per avere maggiori dettagli regione per regione potete o consultare il nostro sito web www.medio.it oppure potete scaricare la nostra applicazione gratuita.